Siamo con l'onorevole Rosetta D'Amelio, consigliere regionale del PD. Onorevole, la situazione delle comunità montane attuali, in particolar modo le comunità montane irpine, sono in grave difficoltà. Come non ricordare gli stipendi che i dipendenti della Termina Cervialto non prendono da più di un anno e la situazione è anche difficile sia all'Ufida che alla comunità montana alta irpine dove sono stati licenziati purtroppo 150 lavoratori a tempo determinato. Sì, la situazione della comunità montana è gravissima, lo è in tutta la campagna, lo è in particolar modo in alcune comunità montane della nostra provincia, ma io vorrei ricordare che è un anno ormai da quando io mi sono addirittura incatenata nel Consiglio regionale, alla Presidenza, bloccando il Consiglio perché chiedevo che ci fossero un po' di risorse sul bilancio ordinario. Perché è vero che avevamo anche chiesto di attivare i fondi FAS e poi dirò però con quanto ritardo sono stati attivati, però era indispensabile fare in modo che ci fossero un po' di risorse ordinarie per pagare almeno le situazioni di emergenza degli stipendi. E invece questo non si è voluto fare dicendo che non c'erano risorse, con la solita scusa del patto di stabilità che non c'erano risorse. E nello stesso tempo, nello stesso periodo, dalla mattina alla sera, sull'ordinario, la Regione trovò 30 milioni di euro per l'American Cup a Napoli. Quindi invece di spendere per due giorni 30 milioni di euro, bastava che ne spendessero 5, non voglio manco dire che non la facevano, ne spendessero 5 e 25 milioni di euro per le comunità mondane sarebbero state una boccata d'ossigeno, almeno qualche mese di stipendio. Perché noi sappiamo che c'è bisogno per pagare gli stipendi degli operai a tempo indeterminato, degli operai a tempo determinato, ci vogliono circa 100 milioni di euro l'anno. Quindi questo non è avvenuto e oggi noi ci troviamo nella situazione che io denunciai quando mi incatenai per un'intera giornata ai banchi della giunta, nella sede del Consiglio regionale. Perché naturalmente, essendoci zero sul bilancio regionale, non si può dare nessun sostegno economico, non si è dato almeno fino adesso, o si è dato pochissimo. Quel poco che si è dato è stato con grande generosità e anche con rischio personale, dovuto all'impegno dei presidenti delle comunità mondane, penso a quello dell'Alterpinia, che insomma ha utilizzato risorse che aveva a disposizione anche se non erano specifiche per la forestazione. Detto questo, però, sempre in sede di bilancio, quindi parliamo di dicembre dell'anno scorso, più di un anno, 13 mesi, noi diciamo a Caldoro, attiva immediatamente, con un ordine del giorno, di cui io fui la prima firmataria, i fondi FAS, perché quantomeno cominciamo ad utilizzare da subito i fondi FAS. Ci fu risposto allora che non potevano essere utilizzati queste risorse perché erano risorse di investimento, e invece la forestazione non lo era lo stipendio. Noi ci abbiamo spiegato con grande pazienza che fare risanamento idrogeologico, fare in modo che non ci siano i disastri che avvengono ogni volta, la difesa del suolo e tutto il resto è investimento, quindi non è spesa corrente, è investimento e quindi si poteva fare. Beh, ha aspettato sei mesi, solo nel mese di luglio, ha chiesto, dopo che noi eravamo andati dal ministro Barca, che ci aveva garantito che era possibile, se ci si specificava che erano di investimento, per che cosa utilizzarle, avere quelle risorse. Quindi sei mesi scoperti, quindi tutto il 2013 è scoperto 2012 per sei mesi, perché i fondi FAS si possono ottenere dietro presentazione di un progetto, per cui se non si sono attivati a dicembre o a gennaio, quando l'abbiamo chiesto, e ti attivi a giugno-luglio, è chiaro che finché fai il progetto hai gli ultimi tre mesi, gli ultimi quattro mesi di utilizzo dei fondi FAS 2012, e quindi questa è la situazione ad oggi. C'era stato detto che c'era una tranche di 21 milioni di euro, ma non ne abbiamo ancora, quelle degli anni precedenti, ma fino ad oggi le comunità mondane non hanno visto niente, se non qualche piccola cifra sul PSR, anche quello però solo per quelli che si sono attivati su qualche progetto. Questa è la situazione odierna, una situazione grave, gravissima, con poche risorse e con una insipienza della regione Campania che come al solito c'è in testa solo i problemi di Napoli, non si rende conto che il 70% del territorio è mondano e che la forestazione per questi territori non solo è difesa dell'ambiente, è difesa della montagna, è difesa delle acque che si bevono a Napoli, ma è anche sostegno economico, perché piccoli comuni montani, se ci togliamo 30 famiglie di forestali, possono chiudere battenti, non esisteranno più. Ma è inutile parlarne, perché la logica che continua a esserci a Napoli, che è a Caldoro, è quella di dire sono assistiti, vediamo come possiamo fare a toglierli di mezzo, questa è la verità. Io credo che noi rifaremo, perché adesso siamo in fase, nuovamente, di bilancio, perché siamo, non abbiamo ancora approvato il bilancio, c'è qualche ritardo, noi rifaremo una grande battaglia, perché un po' di risorse ordinarie si trovano. A queste chiediamo di aggiungere da subito, nuovamente, la richiesta dei fondi FASMA da gennaio, più i bian di PSR, se mettiamo insieme le tre cose, io credo che un po', un po' di respiro ci potrebbe essere, e nel frattempo però bisogna rendersi conto, che su questo settore bisogna investire, bisogna crederci, bisogna fare la legge, e dare alla legge risorse che non possono essere ogni volta la corsa contro il tempo per riferire qualche cosina. Onorevole, proprio rispetto ad una nuova legge regionale, lei ha presentato una proposta che poi è stata unificata con quella dell'onorevole Pietro Foglia dell'Udc, in sintesi i tratti salienti della sua proposta di legge. Sì, noi abbiamo presentato, ma già da un anno e mezzo, questa è una cosa grave, io e il consigliere Donato Picca, che tra l'altro è un consigliere delle aree interne del Cilento, quindi che ha la stessa nostra situazione, una proposta di legge, dopo alcuni mesi l'ha presentata anche Pietro Foglia, noi abbiamo detto non ci interessano primogeniture, a noi interessa il destino della montagna e dei lavoratori d'aulici forestali. Mettiamoli insieme, perché avremmo potuto pure fare una battaglia e dire, siccome l'abbiamo presentata, prima noi va discussa la nostra, ma noi sapevamo di non avere in consiglio la maggioranza, quindi per noi va bene, abbiamo lavorato con una commissione ristretta, abbiamo lavorato insieme con Foglia e abbiamo definito una proposta unificata che è all'ordine del giorno del Consiglio da tre mesi e l'hanno bloccata sempre. Questa prevede che le comunità mondane diventano in applicazione anche della legge nazionale Unione dei Comuni, perché un'altra cherella era le comunità mondane non esistono più, devono esistere, allora va bene, invece di comunità mondane, Unione dei Comuni montani. Abbiamo previsto che appunto ci fossero risorse per quanti, quantificando quanti sono gli operai che servono, abbiamo previsto con grande serietà anche con l'appoggio dei sindacati che essendo molti operai anziani che andranno in pensione nel giro di qualche anno, diciamo che restano molti meno dipendenti, circa la metà e quindi si può in qualche modo dare stabilità anche a quelli a tempo determinato che non sono poi una cifra enorme e nello stesso tempo si può prevedere una progettazione seria, puntuale per, ripeto, la difesa della mondagna ma io dico ce lo dimentichiamo sempre adesso le guerre una volta si facevano per il petrolio adesso si fanno per l'acqua la provincia di Avellino l'Alta Erpina l'Alta Valle del Segre sono il vaccino idroforo più importante dell'Europa noi diamo acqua alla Puglia a Napoli e se non facciamo risanamento ambientale ma insomma l'acqua che è l'oro vero del terzo millennio si disperde come sta avvenendo e rischiano anche le altre regioni quindi non è di restare a secco soprattutto insomma altre regioni ed altre città e quindi sarebbe un bene per tutti fare in modo che questa legge che definisce quali sono gli operai a che cosa servono quali sono i poteri dei comuni montani quali sono gli impegni che riguardano insomma la forestazione quali sono le questioni che attengono insomma allo sviluppo tra l'altro in questa legge diamo anche poteri veri che fino ad oggi non hanno avuto relativi all'andingendio che sono costi a parte invece noi formiamo il personale delle comunità mondane utilizziamo le risorse dell'andingendio anche dandoli a loro quindi abbiamo previsto una serie insomma di competenze anche aggiuntive che possono dare più risorse i tratturi montani quindi anche un po' di risorse che possono venire dal turismo dall'ambiente in modo che quella cifra che serve non è una cifra che grava solo sull'agricoltura e però la cosa grave è che ripeto nonostante la legge sia stata approvata all'unanimità in commissione quindi tutti centrodestra centrosinistra centro proposta dal PD proposta dall'UDC e da una parte della PDL bene non si è voluta discutere perché l'hanno messa all'ordine del giorno circa come ho detto prima tre mesi fa da allora è andata in aula e non è mai stata discussa perché l'aggiunta l'ha fatta ritirare perché la logica che hanno in testa è sempre quella di togliere di mezzo gli operai forestali di togliere di mezzo le competenze delle comunità mondane di non darli ai comuni ma di fare una grande società una delle tante società come ce ne sono a centinaia a Napoli tutte che stanno fallendo per liberarsi di questo personale questa cosa per noi non è accettabile noi continueremo come gruppo PD una battaglia fortissima su questo terreno io sarò in prima fila perché davvero non possiamo continuare a fare in modo che le zone interne siano del tutto disertificate perché abbiamo assistito in questi ultimi due anni a tagli consistenti dalla chiusura a quella delle scuole a quella degli ospedali a quella dei tribunali adesso se tagliamo anche definitivamente gli operai forestali voglio dire è meglio che ce ne andiamo tutti che senso ha restare a vivere qua Onorevole lei prima parlava di napolicentrismo sembra che ci sia anche ultimamente un napolicentrismo nella politica anche nel suo partito perché ancora una volta del PD non ci sarà nessun esponente al Tirpino a difendere il territorio ma come succede nel PD potrebbe succedere quasi certamente a parte qualche probabile eccezione anche negli altri partiti quindi né al Senato né alla Camera potrebbe esserci un rappresentante al Tirpino dopo le tante difficoltà che il territorio sta vivendo è una cosa abbastanza grave sì ma io aggiungerei per le candidature al napolicentrismo l'avellino centrismo perché il PD due candidature quelle certissime la terza è insomma così le ha scelte tutte e due Avellino ed Interland quindi anche il PD ha fatto una scelta quello provinciale che ha difeso solo gli interessi della città di Avellino e del suo Interland io per la verità non ho condiviso come ho detto questa impostazione e avevo chiesto perché i consiglieri regionali dovevano chiedere la deroga e i sindaci avevo chiesto la deroga al nazionale perché ritenevo giusto io sono stata sono l'unica eletta non solo del PD di tutto il centro-sinistra in provincia di Avellino e sono la prima eletta di tutti i partiti in Alta Irpinia e avevo un dovere ed ho un dovere verso questo territorio di battermi perché avesse una rappresentanza parlamentare soprattutto adesso che pensiamo che il PD vada a governare e quindi avremmo potuto correggere errori macroscopici precedenti ho chiesto la deroga rispettando insomma le regole bene la cosa grave è che mentre ai sindaci in Campania nessuno hanno dato la deroga sbagliato ma non l'hanno dato a nessuno per i consiglieri regionali l'hanno data a 4 su 6 quindi 4 consiglieri hanno avuto la deroga io e un altro consigliere PICA non l'abbiamo avuta io sono l'unica donna che l'ha chiesto e non l'ho avuto ancora oggi non ho capito perché o meglio ho capito perché io sono convinta che se mi fossi candidata alle primarie dall'Alta Erpinia e da tutta la provincia di Avellino così come è successo per le regionali dove ho avuto più di 14 mila voti di consenso la gente anche gli iscritti del PD e quelli che avevano voluto alle primarie partecipare mi avrebbero tributato una messe di voti di questo sono sicura perché io sono a disposizione delle persone sempre dalla mattina alla sera faccio le battaglie certo tante cose non le ottengo ma quantomeno ascolto la gente quantomeno rispondo a chi mi ha votato quantomeno la mia casa ha le porte e le finestre aperte a qualsiasi ora del giorno e della notte e soprattutto perché io ci tengo a questa terra io ero giovane una professionista affermata mi avevano chiesto di restare a Roma all'università a insegnare e tornai qui perché amavo questa terra e perché dissi che ci dovevamo rimboccare le maniche dopo il terremoto e adesso non posso non permetterò a nessuno di fare in modo che venga immarginata l'Irpinia tra l'altro io sto in consiglio regionale dove difenderò con forza questi interessi non è che uno si realizza solo perché va a Roma io a Roma volevo andare per difendere gli interessi del territorio non mi hanno dato la deroga li difenderò come ho sempre fatto dalla regione Campania e risponderò ai cittadini che mi hanno voluto in regione ripeto l'unica del centro-sinistra la più votata dell'alterpinia e che io ringrazio perché mi hanno dato una grande fiducia e una grande responsabilità verso di loro Onorevole ultimissima domanda forse rispetto a qualche candidatura al Tirpina doveva esserci una maggiore compattezza anche dei primi dei primi cittadini e la preside Repoles perché era lei alla candidata poteva tranquillamente viste i piccoli voti che l'hanno i pochi voti che l'hanno divisa da famiglietti poteva ambire ad un seggio in Parlamento più compattezza le sindaci se si rompono anche in Alterpinia sindaci è davvero finita sì sì sicuramente tra l'altro devo dire io ho sostenuto con forza la candidatura della Repole ma l'ho sostenuta non solo perché era una donna dell'Alterpinia è stata sindaco di San Angelo dei Lombardi nella trincea del terremoto ed è stata anche presidente della provincia quindi non era un'invenzione la Repole era una persona radicata al territorio purtroppo insomma abbiamo dovuto fare uno sforzo enorme per quello che mi riguarda perché questa candidatura è venuta fuori nelle ultime 24 ore ed ha avuto un risultato straordinario per essere venuta fuori nelle ultime 24 ore se fossimo stati tutti più combatti adesso avremmo avuto il deputato dell'Alterpinia ma io non ce l'ho questa responsabilità io tutti quelli che erano legati a me ho fatto in modo di far votare la Repole grazie a tutti